Buonasera, volevo sapere circa il parcheggio sotterraneo di Corso Cavour, a che punto sono le decisioni, perché secondo me sarebbe un'ottima soluzione per rilanciare anche il commercio in centro e per dare la possibilità a tutti i residenti, anche in vista della chiusura di Vergilio, di avere un posto, perché chi abita in Vergilio verso il Corso Vittoramone avrà difficoltà a parcheggiare nel parcheggio di Cesare Battisti, quindi anche in virtù di quello, volevo capire se, visto che è stato tutto approvato, se si riuscisse a fare un cantiere come fanno in tutte le città europee, nel centro cittadino, in due o tre anni ad avere un parcheggio sarebbe una grande cosa. Grazie per il suo intervento, sicuramente il parcheggio di Corso Cavour divide la città di Bari tra favorevole e contraria. Io devo essere sincero, non sono dell'opinione del telespettatore, io non avrei mai progettato un garage sotterraneo in quel punto della città, a poche decine di metri dal mare, con la falda affiorante praticamente a livello di terra. Capisco che avere dei parcheggi pertinenziali, cioè a disposizione dei residenti, in centro sarebbe utile e possiamo discuterne, ma una gigantesca vasca che sposta milioni di litri d'acqua della falda e li manda tutti sotto scala dei palazzi vicini, soprattutto senza che esista la possibilità di prevedere l'effetto sulla tenuta delle fondamenta di questo spostamento d'acqua e senza una valutazione di impatto ambientale che l'amministrazione di Cagnabrescia non effettuò sul progetto, io non me la sento di procedere su questa strada. Aggiungiamo che dal punto di vista delle nuove teorie sulla gestione del traffico, più parcheggi si fanno in centro, soprattutto quelli di turnazione, cioè a disposizione di chi arriva in centro, non quelli a disposizione dei residenti, se tu fai molti parcheggi di turnazione arriva molto traffico in più perché tutti hanno la speranza di trovare un posto, ma tutti noi sappiamo che per quanto grande sia un garage nel centro ha sempre dei posti limitati e questo aumenta e impedisce alle persone di prendere l'abitudine di parcheggiare nei parcheggi di scambio, di lasciare fuori le automobili per non inquinare l'aria e per non occupare inutilmente lo spazio col parcheggio dell'auto, cosa che invece è la strategia principale della mia amministrazione. Noi dobbiamo invece fare altri parcheggi di scambio, cioè fare in modo che l'auto serva per gli spostamenti intercomunali o comunque tra i grandi quartieri della città e venga abbandonata quando ci si avvicina al centro e questa è la ragione per la quale i grattini in centro costano di più che quelli fuori, perché più ti avvicini al centro, più devi pagare per parcheggiare, è un modo per scongiurare, viceversa il park and ride costa ancora pochissimo, devo dire temo troppo poco e poi viene anche utilizzato da qualcuno che pensa che sia una normale linea d'autobus, che senza parcheggiare l'auto tendono ad approfittare del prezzo particolarmente conveniente del biglietto. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera, posso fare una domanda? Sì, prego, prego. Buonasera signor sindaco, sono un cittadino che abita nella zona dell'ex stadio della Vittoria e lì so che da un po' di tempo è prevista una riqualificazione, io parlo proprio della zona attinente allo stadio della Vittoria dove si dice anche che oltre a dei lavori c'è da fare un camionale per i grattini. Volevo sapere più o meno qualche notizia più aggiornata se c'era. Grazie per il suo intervento. Allora, come voi sapete lo stato dell'arte, diciamo relativo a quella camionabile, quando sono diventato sindaco era che era stata eliminata dal piano regolatore e si puntava tutto su un'assurda progettazione di un collegamento sottoviario che doveva collegare il porto con l'asse nord-sud. Questa operazione era tecnicamente molto difficile e infatti il cantiere non è mai partito, non è mai stato aperto. Noi abbiamo quindi riproposto la camionabile, ne abbiamo leggermente modificato il percorso in modo che interferisca il meno possibile con le zone residenziali e soprattutto a beneficio del quartiere dove abita il telespettatore che ha appena chiamato, perché quel quartiere sopporta oggi il passaggio continuo di camion a tutte le ore del giorno che oltre al rumore e all'inquinamento dell'aria provocano un degrado continuo dell'asfalto e in quell'area dove peraltro la falda è molto alta, è difficile fare delle caditoie per l'acqua piovana e quindi tra le distorsioni dell'asfalto e la vicinanza della falda quando piove in quell'area quelle strade si trasformano in fiumi, è un po' come il lungomare davanti al Cus per essere chiari, lì è impossibile fare delle caditoie dell'acqua perché l'acqua stessa è praticamente a livello della strada e dunque non abbiamo l'effetto di percolamento dell'acqua nella falda che è l'unico modo che c'è per smaltire in quel caso la pioggia, dunque quella camionabile però ha un difetto molto grave, costa decine di milioni di Euro che allo Stato sono in via di reperimento, non è un'operazione semplice però è una delle priorità dell'amministrazione e adesso è stata inserita anche nel DPP, nel documento programmatico preliminare è una delle priorità anche perché ci siamo accorti che tutte quelle aree attorno alla Fiera del Levante che sono state più o meno lasciate ad uso parcheggio per la Fiera del Levante in realtà in molti casi potrebbero essere finalmente nuovamente considerate affini edificatori perché la Fiera non ha più bisogno di aree a parcheggio così vaste e soprattutto c'è la necessità di urbanizzare compiutamente tutta quell'area e per far questo sono partite due lottizzazioni molto importanti, una che è proprio davanti al CUS, diciamo in adiacenza della cittadella della cultura e dei mercati generali e l'altra riqualificherà le ex officine scianatico, in quel caso nel momento in cui verranno realizzati questi due nuovi insediamenti noi avremo anche una sorta di completamento di tutta quell'area che avrà anche un carico urbanistico notevole, molte persone dovranno vivere lì e io mi auguro che il passaggio dei camion sia stato già risolto perché è chiaro che la vivibilità di quelle case è legata alla realizzazione della camionabilità. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto? Buonasera, innanzitutto per motivi cavalereschi un saluto ad Alessandro, poi al signor sindaco che ci è mancato per tanto tempo, ci avete proprio lasciato, ci avete abbandonato, noi abbiamo bisogno della sua presenza perché abbiamo necessità di esternare i problemi nostri. Come vede è tornato a posta per rispondere a tutti i cittadini. Allora io voglio cambiare programma, c'è andare sullo sport, lei che è un appassionato di calcio del Bari come me, io ho 77 anni, quindi seguo il Bari da quasi 70 anni diciamo e non ho mai visto cose del genere perché le cose anche con gli altri presidenti sono da… comunque a questo punto siccome lei è un barese puro sangue come me, c'è questa ditta a Menduni che è barese come noi e quindi può essere senza presa a cuore da lei, perché non interpellarlo, lui dice che non ha ganci su Bari, però gli potremmo dare Di Gennaro che è un ottimo tecnico, un'ottima persona sotto tutti i punti di vista che potrebbe rappresentarlo nella città di Bari e tirare lui le fila di tutto quanto, come un direttore sportivo comunque. Io mi appello a lei, nonostante ha detto la famiglia, l'ho già chiamata, l'ho mai intervistata, però lei non lo so se nelle sue possibilità c'è la possibilità di contattare e magari di aiutare questi imprenditori a dare qualche pezzettino di suolo attorno allo stadio San Nicolo, questo potrebbe essere un incentivo. Grazie e buona sera. Benissimo, grazie per il suo intervento, il telespettatore ha aperto un fronte sensibile, c'è anche un contenzioso tra l'altro con l'AS Bari di cui parleremo tra pochissimo.